Il Cairo, 26 Feb, per la prima volta una direttrice d'orchestra italiana si è esibita al Cairo, alla guida dell'Orchestra Sinfonica della Capitale Egiziana che quasi mai si affida a una bacchetta femminile. Protagonista dell'evento è stata Isabella Ambrosini che, dal 2012, resta pure l'unica donna ad aver diretto nell'Aula di Montecitorio. Il concerto, il 24-2 alla Cairo Opera House, è il primo che Ambrosini ha diretto in un paese musulmano. La musica non è dell'Occidente, dell'Oriente, del Nord o del Sud. La musica è di tutti. E pensiero puro e vivo, quando è grande musica, e in quanto tale è un patrimonio dell'umanità, ha sottolineato la direttrice d'orchestra che anche diretto più volte alla presenza di Papa Giovanni Paolo II. Direttrice artistica e musicale, oltre che fondatrice, dell'Orchestra Roma Sinfonica e del Coro Roma III, Ambrosini ha scelto un programma con musiche di Beethoven, Settima Sinfonia, Ravel, il concerto Rhapsodia Zygane, Saint-Sans, L'Avanaise, e il 7-ottocentesco Danzi.